Girava con la bicicletta per la città, imbrattando i muri con una bomboletta spray e vernice nera. I soggetti erano sempre gli stessi, una zeta, simbolo delle milizie russe impegnate nel conflitto in Ucraina, oltre che altre frasi e riferimenti marcatamente filorussi. Il cittadino serbo, già noto alle forze dell'ordine e denunciato in più occasioni per il reato di imbrattamento aggravato, è stato incastrato dalle telecamere. È il risultato delle indagini congiunte tra Polizia di Stato e Carabinieri, che da tempo lavoravano per smascherare il writer seriale. Gli accertamenti hanno preso il via dopo che nell'agosto scorso le forze di polizia avevano rilevato su alcuni edifici e automobili parcheggiati nel rione di San Giacomo delle scritte con riferimenti filorussi, in particolare la lettera Z. Da quell'episodio sono partite le indagini, con il monitoraggio delle immagini delle telecamere della zona, oltre agli appostamenti con condivisioni di informazioni tra Polizia e Carabinieri. L'attività ha permesso di smascherare il cittadino serbo. Da diversi anni in Italia, che era solito imbrattare muri e macchine parcheggiate di sera e di notte, muovendosi velocemente a bordo della sua mountain bike. Grazie ai risultati delle indagini, l'autorità giudiziaria ha autorizzato la perquisizione dell'abitazione del writer. In casa sono state trovate bombolette spray, la bicicletta utilizzata dall'uomo, oltre ad altri elementi che hanno inchiodato l'indagato.